ciao ragazzi voi non avete idea di quante volte in questi anni ho desiderato avere una pialla come questa ad esempio quando sono andato a costruire i taglieri con questo avrei fatto decisamente prima quando sono andato a costruire le antine su misura per i miei mobili con questo avrei fatto decisamente prima e tante tante altre lavorazioni con questo ragazzi avrei fatto sicuramente decisamente prima ragazzi fatemi ringraziare prima di cominciare la vevor che mi ha spedito questa pialla che adesso ci andiamo a vedere e vi dico già da adesso di iscrivervi al canale lasciare un bel like se vi è piaciuto il video e condividetelo con i vostri amici adesso non perdiamo altro tempo ce l'andiamo ad aprire immediatamente ragazzi ho fatto un bel po di fatica a tirarla fuori sono 30 kg di macchina e così a primo aspetto direi che tutto quanto ferro o barra alluminio adesso ce l'andiamo a vedere insieme quello che ho trovato comunque la pialla già interamente montata e il libretto di istruzioni ora ragazzi ve la giro e ci andiamo a vedere ogni singola caratteristica e da vicino allora ragazzi quando si apre lo sportello all'interno troverete questa busta dove c'è la manovella che serve a tirare su il motore e la dima per allineare i coltelli della pialla quindi ragazzi questa è la dima che serve all'allineamento dei coltelli della pialla la manovella di cui vi parlavo prima per alzare e abbassare il motore quindi i coltelli della pialla 4 piedi in gomma ed una piccola chiave spaccata e per finire questa bruola ok fatto questo ci andiamo a tirare sul motore e ci andiamo a togliere due blocchetti di polisterolo che servivano semplicemente per stare a protezione ok ragazzi allora l'unboxing è finito adesso ve lo vado a descrivere da vicino poi ci andiamo a settare nel migliore dei modi e ce ne andiamo a testare insieme ragazzi ha un gran bel cavo all'incirca due metri di lunghezza allora ragazzi si parte dalla parte anteriore allo sportellino che si può abbassare troviamo un rullo trascina pezzo l'etichetta che ci indica il senso il verso in cui dovrà essere inserito il nostro pezzo di legno ha l'interruttore che ci derivira per accendere e spengere chiaramente la nostra pialla questo c'è anche scritto remove tool look se si muove questo pezzo non si può accendere la pialla neanche accidentalmente il bottone rimane morto qui troviamo l'interruttore di protezione quando si sovralimenta il motore lo stacca con questo lo premiamo possiamo andarlo a ripristinare qui possiamo vedere l'etichetta del motore e qua ragazzi possiamo vedere una scala in centimetri ben definita dopo andiamo a settarci a vedere quanto sia precisa già uscita dalla casa nella parte superiore troviamo la leva che abbiamo appena finito di serrare per tirare su e giù il motore quindi i coltelli della pialla altri due rulli sia in entrata che in uscita che ci permettono di mettere dei pezzi a sbalzo quindi lunghi quando andiamo a riprenderli o dobbiamo posizionarli per essere piallati ragazzi qua sopra come potete vedere c'è questa etichetta che ci indica ci consiglia i millimetri che possiamo asportare in base alla larghezza del pezzo ragazzi tirato sul motore finiamo con questa parte qui possiamo trovare il ricambio dei carboncini con un cacciavite spaccato basterà svitarlo troveremo il carboncino nella parte bassa invece ragazzi troviamo questi due bulloncini che servono a regolare il piano in chiusura e questi altri due invece qui in basso che serviranno per regolare il piano in apertura quindi la planarità del piano di uscita di entrata rispetto a quello centrale questo ce l'andiamo in pratica a fare subito insieme vado a prendere una livella un regolo non lo vado a posizionare tra i due rulli e vado a vedere che non ci sia aria tra il pezzo centrale quello d'entrata e quello d'uscita devo dire che questa regolazione è già stata fatta dalla casa sia entrata che non uscita tocca sia qui sul rullo nella parte centrale che in fondo quindi questa regolazione non va fatta è già stata fatta dalla casa eventualmente a voi non è stata già regolata bene dalla casa andrete a lavorare su questi bulloni che tireranno su e giù il vostro piano ora ragazzi ve lo vado anche a sbragare in modo che vado a mettere i piedini e andiamo a vedere anche la parte sottostante del motore allora ragazzi una volta sbragata scendiamo a mettere i nostri piedini in gomma qui ho notato stampato la scritta alu quindi questo è tutto quanto alluminio presso fuso qui troviamo le cremaliere che sono tutte guante in ferro ben ingrassate sia questa che questa questo sistema chiaramente ci servirà a far salire contemporaneamente il motore sia dalla parte sinistra che dalla parte destra quindi ambedue le barre filettate sono in pratica sincronizzate qua nella parte interna ragazzi è un po scomodo farvelo vedere ma credo ci sia riuscito troviamo questi denti che servono in pratica non far tornare indietro il pezzo di legno che andiamo ad inserire questi in gomma ne abbiamo due uno e due in ingresso e l'uscita sono in pratica gli spingi pezzo e poi qui abbiamo il nostro rullo con i coltelli ragazzi cammina su due e due quindi due per lato cilindri in acciaio da 20 mm tondi ed una barra filettata sempre per lato da 13 mm come vi dicevo prima ragazzi il movimento è sincronizzato andando a girare la pialla qui di lato e al lato opposto troviamo le maniglie per trasportarla nella parte retrostante troviamo il cavo che abbiamo visto prima da due metri e questa che è la bocchetta di fuoriuscita del truciolo anche ragazzi nella parte in uscita troviamo sempre lo stesso sistema i due bulloncini per la regolazione in chiusura ed i due bulloncini per la regolazione in apertura qua ragazzi che dove vi sto indicando al lato opposto si può notare la seconda spazzola per il ricambio ragazzi qualora dovete comprare un adattatore il diametro esterno è da 50 quello interno è da 43 ragazzi con un po di gomma e nastro isolante sono riuscito ad adattare anche il tubo l'adattatore aspiratrucioli nell'altra pialla ragazzi ve l'ho descritta completamente adesso ce lo andiamo a provare dunque ragazzi per fare la prova ho preso tre tavole di legno tutte e tre essenze diverse questa è di albicocco questo vecchissimo tagliere di faggio lo andiamo a ripristinare e per finire quest'altro tagliere in quercia che è imbarcato anche questo lo andiamo a a ripristinare allora partiamo da quello in quercia si può notare anche così ad occhio chiuso che è imbarcato vedete ragazzi si si vede quindi andiamo a piallare la parte dove c'è il dosso quindi andrò appoggiare queste due parti sulla parte sottostante della pialla e intanto cominciamo a mangiare il centro del tagliere perché avessi ancora meglio ci andiamo a segnare io ragazzi a prescindere dalle indicazioni che ci dà alla casa io vi consiglio di usare sempre uno spessore di un massimo un millimetro alla volta quindi meglio fare più passate qui non ho il problema dei nodi qualora dovesse lavorare con legni di babete o pino che hanno dei nodi con la pialla precedente ho sbeccato i coltelli che era una bellezza quindi ragazzi con l'esperienza acquisita negli anni spessore da 3 mm su quei tipi di legno mai più adesso ragazzi calibro la mano vado a prendere lo spessore del legno non basta fare solo questo perché essendo imbarcato devo andare a prendere la parte più alta rispetto al pianale ossia quella al centro fatto questo vado ad impostarla sulla pialla e poi a mano a mano ci abbassiamo di un millimetro alla volta aspetta 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 Grazie a tutti. Ragazzi vado a vedere se corrisponde lo spessore di taglio, quindi vado sulla scala, vediamo quanto è, sono all'incirca 22,5. Ragazzi sono 22,7 direi proprio che ci siamo. Quindi ragazzi visto che la casa ha regolato anche questo e l'ha regolata bene, a questo punto passiamo a quest'altro vecchissimo tagliere in faggio. Come vedete è qualcosa di assolutamente quasi irrecuperabile. Ce l'andiamo a provare, come vedete è anche spaccato, ma lo sto facendo proprio giusto per prova, per vedere se riusciamo a levigare il più possibile questo legno che come vedete è completamente affettato. Questo è un tagliere che ha qualche decina di anni ragazzi. Allora ragazzi devo spezzare una mancia a favore della pialla. Perché? Finché si è trattato di trucioli e del tagliere di faggio, che come vedete sono molto secchi e quasi segatura, l'ha aspirato senza troppi problemi. Mentre invece con l'albicocco che ha fatto queste simil fettuccine si è andata ad intasare non tanto la pialla ma il bocchettone d'aspirazione dell'aspirato di lucioli. Avendo questo più di protezione qua in mezzo non sono riusciti a passare completamente. Quindi la colpa non è tanto del bocchettone della pialla ma del truciolo stesso o se vogliamo della protezione che ha questo tubo. Allora ragazzi che dirvi di questa pialla? Sono molti i fattori positivi ma ne ho trovato uno negativo. Quelli positivi ragazzi sono che ha una lavorazione di 33 cm che è veramente molto molto comodo. La macchina è abbastanza leggera, 30 kg, si possono trasportare alle maniglie quindi la possiamo trasportare in macchina per andare a fare delle lavorazioni esterne qualora ne abbiamo bisogno. Come avete visto ho piallato tre essenze diverse di legno senza fare problemi dal faggio che è più duro alla quercia all'albicocco. L'aspirazione diciamo che è andata bene dipende dal truciolo e dall'aspiratore. L'aspiratrucioli che ho ha un bocchettone da 100 mm però con i trucioli lunghi tipo fettuccina ha avuto un pochino di problemi. E' anche vero come vi ho fatto vedere che il bocchettone ha quel più diciamo per salvaguardare pezzi troppo grossi che vadano a rompere poi l'aspiratrucioli. Allora ragazzi adesso passiamo invece ai lati negativi della pialla perché ne ha uno in particolar modo ci tengo a dirvelo perché si potrebbe quantomeno in parte risolvere. L'interruttore l'interruttore proprio ragazzi non mi piace potrebbe migliorarsi con un'auto ritenuta che non ha ma soprattutto se accidentalmente si va ad abbassare il motore con il coperchietto chiuso si accende da solo l'interruttore. A meno che dobbiamo e qui la casa devo dire ci ha pensato togliere questo salva interruttore vi faccio vedere il perché. Ragazzi la spina è attaccata e alimentata l'interruttore come vedete è spento il motore è completamente iterato su e lo sporteletto è chiuso. Se accidentalmente andiamo ad abbassare il motore guardate cosa succede. La spina è attaccata e la spina è attaccata e la spina è attaccata. Ragazzi il problema interruttore ve l'ho risolto io è bastato limare 2 mm l'interruttore e il problema non si è più presentato neanche se tengo premuto. Allora ragazzi prima di lasciarvi vi ricordo che sotto in descrizione troverete due link della Vavor uno Italia uno europeo. Non solo oltre quello vi lascio anche un codice sconto del 5% che potrete utilizzare sia per la pialla ma per tutto il sito della Vavor. Ragazzi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like e condividetelo con i vostri amici. Un saluto da Fabio ragazzi ciao.